Un gruppo consigliare, un cartello elettorale che diventa forza politica, diventa movimento. Stiamo lavorando a lacremento in questi giorni per arrivare a una forma statutaria che contempli tutti, che superi la vecchia forma partitica che probabilmente non è nemmeno più riconosciuta in questo momento e l'associ alla capacità, alla volontà, alla voglia di dare un contributo da parte dei cittadini. Stiamo strutturando un movimento, lo lanceremo a livello regionale. Dalla lista a sostegno del governatore alle ultime regionali ad una struttura organica, un movimento, insomma, in grado di radicarsi ed esprimere classe dirigente sui territori. La racconta così Gianfranco Lopane, ex primo cittadino di La Terza e New Entry in Via Gentile, la roadmap di Con, scritta nera su fondo giallo, ed un gruppo nella massima assise pugliese, con tanto di doppietta nell'esecutivo, formato da Alessandro Dell'Innoce allo sviluppo economico e Pierluigi Lopalco alla salute, obiettivo arrivare alla nuova forma già entro fine mese. Gli scossoni a 5 stelle, gli scenari legati ad un'ipotetica lista targata Giuseppe Conte e alle ripercussioni pugliesi non c'entrano, almeno per ora si intende. Occasione dell'annuncio invece le primarie di coalizione aginosa, dove la lista schiera Carmen Carlucci, avvocato di professione pronta a sfidare Gazebo del 18 luglio prossimo, Antonio Pupino e Paolo Costantino, entrambi a trazione DEM. Questa sfida nasce con l'intento di poter essere uno specchio per i nostri giovani e per le nuove generazioni che da tanto tempo appunto sono state oscurate all'interno della politica.